amici della polisportiva cingoli buonasera bentornati a pala quaresima intervista il nostro spazio settimanale nel quale intervistiamo i giocatori della macal cingoli in serie a god maschile di pallamano questa sera abbiamo qui con noi paolo tini ciao paolo ciao una sera parliamo subito di questa pausa come avete preparato insomma questo periodo in cui non avete avuto partite o per via della nazionale allora sono state due settimane molto importanti per noi abbiamo avuto modo di riposarci un attimo recuperare un po di energie sia fisiche che mentali che in un momento difficile nella nostra stagione come questo era molto importante e ora ci stiamo preparando alla partita di sabato al meglio abbiamo tempo di preparare la partita e di concentrarci sullo scontro e si sabato arriva una partita importantissima qui alla pala quaresima contro il secchi a roviera su cosa state lavorando per preparare questo match stiamo lavorando su tutti gli aspetti della gara della gara di sabato sia sull'attacco che sulla difesa stiamo studiando gli avversari stiamo lavorando sul nostro sistema di gioco grazie mille paolo vi ricordiamo che la partita tra maccati cingoli e secchi a roviera si giocherà a sabato prossimo 16 novembre alle ore 18 qui al pala quaresima buona serata a tutti grazie a voi